Il caso non esiste, neanche un'inchiesta, tantomeno una denuncia, che potrebbe farla aprire. È morta per cause naturali la donna di 49 anni di San Giorgio Ionico, in provincia di Taranto, che si è accasciata al suolo mentre stava lavorando all'acinellatura dell'uva, l'eliminazione cioè degli acini piccoli per permettere a quelli più grandi di crescere e maturare. Succedeva il 12 luglio scorso, nelle campagne di Andria, sanitari del 118 intervenuti sul posto e medico legale, parlarono di un arresto cardiaco. I testimoni dell'accaduto, sentiti dalla polizia, riferirono di aver visto la signora all'improvviso barcollare e poi cadere. Il marito disse che da alcuni giorni non stava bene, ma aveva comunque deciso di andare a lavorare. Sulla base di questi referti e documenti, il magistrato di turno della procura di Trani quel giorno, Silvia Curione, non dispose l'autopsia. Non è detto che ad ucciderla sia stato il caldo il 12 luglio le temperature non erano elevatissime, ricorda la polizia, forse la stanchezza o una malattia congenita. La donna, riferiscono le fonti interpellate, era partita all'alba da casa insieme ad altri operai ingaggiati a tempo determinato da un'agenzia di lavoro interinale del Tarantino, pagata regolarmente secondo le tariffe. La vicenda è balzata agli onori della cronaca dopo la denuncia della CGL che, prendendo spunto dalla recente scomparsa di un 47enne originario del Sudan, stroncato dal caldo mentre raccoglieva pomodori nella zona di Nardò, costretto a lavorare in condizioni pietose, ha chiesto maggiori controlli nelle campagne, laddove è possibile anche morire senza che questo faccia notizia.